E' stato sottoscritto martedì 30 maggio nella sala consigliare del comune di Avigliana il contratto di lago del bacino dei laghi di Avigliana. Erano presenti i rappresentanti della regione Piemonte, della città metropolitana di Torino, della città di Avigliana e dell'ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozzie. Il contratto di fiume o di lago è stato utilizzato per la prima volta nell'ambito del secondo forum mondiale sull'acqua, tenuto si allaia nel marzo del 2000. E' stato ripreso dalla direttiva quadro europea sulle acque 2060 CE. Si tratta di un tavolo condiviso fra soggetti pubblici e privati per l'analisi e la gestione dei problemi che si possono manifestare lungo un corso d'acqua o in un lago, con l'obiettivo di promuovere azioni di riqualificazione ambientale. A partire dal 2009 sono già stati sottoscritti il contratto di fiume del Sangone e il contratto di lago di Viverone, mentre sono stati attivati quelli del fiume della Stura di Lanzo e del Pellice. Con la firma del 30 maggio inizia la fase di attuazione del contratto di lago di Avigliana, durante la quale sarà realizzato un piano d'azione, fra i cui obiettivi vi è il contenimento dell'eutrofizzazione delle acque. Il contratto di lago è prima di tutto uno strumento di partecipazione, è un nuovo modo di affrontare tutte le problematiche che ci sono su un territorio, un territorio vasto e complicato come anche quello dei due laghi di Avigliana che ha avuto ed è partito per dei problemi ambientali molto importanti, tipo l'eutrofizzazione delle acque dei laghi stessi. Ora che cosa c'è stato? C'è stato da parte delle amministrazioni, da parte dei vari portatori di interesse, tipo le associazioni agricole, tipo le altre tipi di associazioni ambientali, un desiderio di affrontare e di risolvere in rete, diciamo così, questo che è il problema essenziale del territorio. Sicuramente lo strumento del contratto di lago è stato un'occasione per andare a lavorare su quelle che erano alcune situazioni di critica e di conflittualità presenti su questo territorio, sia in termini di rapporti con la tutela della biodiversità che è l'obiettivo della conservazione che prevede il nostro strumento del parco, sia in termini anche di gestione delle attività fruitive turistiche. Il contratto di lago ad esempio ha permesso di lavorare sulla questione delle prelievi irrigui, quindi c'è stato un lavoro di concertazione con il Consorzio Irriguo per gestire il prelievo irrigui in modo che non avesse particolari risvolti negativi come era in passato sull'area umida della zona dei Mareschi. Altra occasione sarà sicuramente quella di andare a lavorare per migliorare la qualità e la fruizione turistica, della opportunità. Grazie a tutti.